Stanno prendendo già possesso dello studentato di Via Aldomoro, messo a disposizione dal Lazzo, i fuori sede, ma il rischio è che nei prossimi giorni saranno costretti di nuovo a spostarsi. Il 6 ottobre è stato pubblicato il bando con scadenza fissata alla mezzanotte di domenica. Le assegnazioni sono basate su una gradatoria uscita il 29 settembre sul sito, immediatamente cancellata con la presidente dell'azienda Morgante che ha parlato di errore e avviato un'indagine interna. Ieri mattina sono iniziate tali assegnazioni e già sono cominciati i traslochi degli studenti negli appartamenti. Un piano è già stato riempito, ma c'è molta confusione. Gli studenti sono smarriti. In alcuni casi hanno riferito di appartamenti senza letto. Il loro ingresso si basa su un documento che hanno dovuto firmare, accettando l'alloggio, ma con la clausula della provvisorietà. In sostanza si entra, ma la permanenza è subordinata all'esito delle assegnazioni che verranno fuori dal bando a partire dal 15 di ottobre. Per restare in quelle case, gli studenti dovranno comunque partecipare al bando, sperare poi però di risultare assegnatari. Una situazione insomma di grande caos, perché gli studenti dovranno comunque essere collocati in altre strutture convenzionate, ma si apprende che i posti nelle altre due strutture sono già stati assegnati in larga parte. Gli appartamenti nel complesso Il Moro Appettino sono i più numerosi, sono 100 e sono stati creati per rimpiazzare 166 dell'ex caserma Campomizi.